Buonasera e ben ritrovati con le notizie del giorno di casertafocus.net, l'emergenza coronavirus in primo piano. Nuovo allarme del governatore della Campania Vincenzo De Luca che è preoccupato per il rompete delle righe che c'è stato con la zona gialla. Il Presidente ha sottolineato come questa misura non indichi uno scampato pericolo, l'aumento dei ricoveri e un campanello d'allarme preoccupante. Proprio per contenere il contagio in corso una riunione del Consiglio dei Ministri nel corso della quale si sta lavorando al DPCM che dovrà entrare in vigore dal prossimo 16 gennaio. Quattro zone alla zona rossa, la zona gialla e la zona arancione si aggiungerà anche una zona bianca, ma per entrarvi sarà bisogno di parametri molto stringenti. Stop allo spostamento tra le regioni e riapertura nei musei già in zona gialla. Passiamo invece ai tamponi. In provincia di Caserta, seppur di poco, continua a decrescere il numero dei positivi. A preoccupare come nei giorni scorsi sono però i decessi, ben 12 nelle ultime 24 ore. Due comuni però tornano covid free. Sul piano regionale sono ancora i guariti a sovraavanzare i nuovi positivi. E questo lascia sicuramente ben sperare. Passiamo alla cronaca. Nella mattinata di oggi un tremendo incidente si è verificato nelle campagne di Montragone. Un agricoltore di 55 anni è morto schiacciato dal trattore. L'uomo è rimasto in pigliato nel mezzo nonostante l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. I pompieri non sono riusciti ad estrarlo vivo. Passiamo alla politica, la ristrutturazione di Forza Italia. Il presidente della provincia, Giorgio Magliocca, ha nominato Stefano Tommasi, già coordinatore azzurro a Castelvolturno, vicepresidente provinciale e delegato del litorale Domizio. Una buona notizia, Joseph Capriati sta bene e lo stesso DJ a dirlo e a scriverlo sul suo profilo Facebook. Il DJ ha anche detto che perdona il padre e chiede rispetto per il dramma che sta vivendo la sua famiglia. Una notizia per tutti gli amanti del caffè. Il caffè non è dannoso per il cuore. Lo rivela uno studio di Neuromed che anzi dice che un uso moderato del caffè sia positivo per i pazienti e per la vita di tutti noi. Buona lettura con gli approfondimenti di casertafocus.net